Ops a tutti i cari upsini e upsine, come state? Fatemi sapere come state. Aiuto, mi manca già il fiato, vabbè. Oggi sono qui, dopo un paio di settimane che non registravo, quindi sono ritornato a registrare video per fare appunto questo nuovo video dove vorrei proprio che tu passassi un po' di tempo insieme a me e ti rilassassi. Per cercare appunto di togliere via tutto lo stress, eccetera, eccetera. Ho preparato qualche trigger, qualcuno ho mai fatto, che sarà anche un esperimento, qualcuno già fatto. Ma ho per esempio due trigger che ho solo visto e non ho mai provato, perciò oggi in questo video li proverò in live, letteralmente, per la prima volta. Quindi, indossate un paio di cuffie o auricolari, stendetevi, stendetevi sul vostro letto e cercate di chiudere gli occhi, va bene? Ok. Io inizio con qualcosa di classico, già fatto. Un po' di pennosa. Ho qui il mio tratto. 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 Ok. Non so come mai salute, sono un po' a corto di fiato. Il primo trigger l'abbiamo fatto. Fatemi sapere se vi è piaciuto. Il secondo trigger è uno dei due che non ho mai provato e quindi vedremo se sarà bello oppure no. perché ho preso due cucchiai e ho visto, in questo caso era un ASMR americano, almeno credo che si chiamava, che si chiama tutt'ora, GioGio's ASMR, che faceva così. Questa è la primissima volta in assoluto che provo questo trigger. Ok. 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 Grazie. Ok. 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 com. Ok. artist, mi sembra dei Paesi Bassi, o del Belgio dei Paesi Bassi, ma mi sembra dei Paesi Bassi, ovvero Nanu ASMR, credo che lei sia la mia ASMR artist preferita, che utilizza queste due pacchette, mettendole così e dicendo, è più vicino, il punto A, o il punto B, A, o B, perfetto. Adesso di nuovo, è più vicino il punto A, o il punto B, A, o B, perfetto. Un'ultima volta, spero tu riesca a vedere tutto, è più vicino, il punto A, o il punto B, A, o B, perfetto. Trovo questo trigger di Nanu incredibilmente rilassante. Ok, adesso le riappoggio, qui. Come state? Siete ancora connessi e concentrati su quello che sto facendo? Adesso ho preso questo oggettino, qui, che è andato a virare un po' di tempo fa. Lo proveremo. Cerco di girarne un po', così sentiamo il pop di un bel po' di queste. Ok, li ho girati tutti. Questo non c'è sentito. Ok. Sì, li ho scoppiati tutti. Ok, ci sono, spero che vada tutto, tutto bene. Adesso ho qui un altro trigger che non ho mai fatto, ovvero... Ho preso questo contenitore, che contiene lo zucchero. E volevo con un occhiaio girarlo un po'. E anche farlo cadere giù, così. Provo anche dall'altro lato. Se lo vedete più scuro è perché zucchero di galla. Ok, basta così. Ok. 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 bellissimo 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 ok lo posso scusate se oggi non mi sono concentrato a darvi tante attenzioni qua vicino alla fotocamera ma sono veramente concentrato nei trigger che sto facendo adesso penultimo trigger ho qui questa piccola scatola di là questa piccola latta ecco prima conteneva una candela non mi sono Ok, basta E adesso ho l'ultimo trigger che è appunto un esperimento perché anche questo l'ho visto e ho preso ispirazione da Nanu ASMR e lei lo chiama il suono del tuono. Perciò vediamo un attimino come, vi giuro non l'ho mai provato, però lei prende un asciugamano. E lo mette qua sopra e poi ci passa il pennello soprappunto. Grazie. 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 Un pochino, un pochino si sente secondo me. Non è per niente brutto. Ok. Fatevelo togliere. Spero che non si sia sfogato o fatto nulla. E io adesso ti dico cucù, cucù, ora tocca a te iscriviti al mio canale se sei nuovo per entrare a far parte della Ops community e diventare un opsino. Se sei un maschietto altrimenti è un opsina, se sei una femminaccia. Il mio video di oggi finisce qui, ma tu se vuoi restare ancora insieme a me io ti lascio di qua il mio video precedente, di qua una mia playlist e qua in basso il tasto per andare sul mio canale e vedere qualunque video tu vorrai. Grazie. E niente dai, lascia un like appunto se ti è piaciuto, commenta e è buono niente questo. Io ti mando un grande grande bacio e noi ci vediamo al prossimo video, va bene? Buona notte, buona notte.